a posto che registrando iaia iaia guarda quanto è bello il quartiere guarda è fighissimo ma io vado prima al quartiere è il lama gipsu lama gipsu ma c'è un po' tre gente però è troppo bella però sei morto c'è un po' crederò che io ce l'avevo lo sai io ce l'avevo non è vero non c'è niente perché dico solo pipa ma la lava fa danno ma che gioco di non so che era la lava finta appunto adesso facendo sto facendo appunto la faccia appunto io sto facendo stai zitta stai zitta ah te zitta nu fa da me fa bucchia io tengo un po' vai tu? no lo sono tagliato Wow Anche io Aspetta Mi sto facendo una shield Non è vero Non c'è niente Guarda la volta Ah parla da quella che c'è la shield C'è le spara Vengono da te Gli spari Sparaci Stato Da dove Un po' Col più affatto Una cosa che c'è Ci voglio aiutare ma non so dove E cavolo Luca c'è 10 anni Di vita Grande Luca Se hai ricevuto Vedi fai presto L'uva E curami Dove sei Che Presto curami Non te ne fregare Luca curami Non mi fa cura Ok No Yami scotch C'è di farlo No C'è un medikit Lo sai Dove Io c'ho un medikit E danno E' un po' E' un po' Tutto Ma Ci scambi Col più affatto C'è un po' Un po' C'è un po' C'è un po' C'è un po' C'è un po' Più di me Io te mazzo Ma no Non c'è mai Ma più piccoli Ma ti lasciate il medikit Ma sei scemo Dove sta? Ma poi perché ti fai il falò Se c'è il me Ma mo Gli lo sprechi su Beh lo fa già l'ha messo Sì 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 Copyright Ma quanti colpi cecchino Ah c'è un po' Eh Sì No mamma Perché non ho capito L'esercizio Ora no Tu le volte Che cosa? De fatto Se pagina 62 Ma di che cosa? Per Francese Sì Se pure De pagina 62 Ma allora Luca Per oggi c'era solo Iscrizione Del compagno Di banco De fatto Mi iscrizione Sì E basta Che guarda lì La segna precedente Quando l'avete Di dettaglio Luca C'è una jump Luca Perché Poi per ritornare Se no Ah ma poi Su quello Grande Non c'entrava niente Su quello Che stavamo Facendo Non so come stai Non è Se non è Voi Sì Non so Perché devo andare Non so La croce Vieni di qua C'è un tesoro Luca Da minare Voglio la scar Tanto c'era già Il pompano Voi Ma quanto è lontano C'è uno scaracca in più Allora Vuola la schiena aperto La pompa Lo scarcio Ma io Me lo prendo Anzi Lo prendo Però lo puoi portare Tu questo Guarda Ok Vai in safe La croce Via Fa niente La cosa Di croce Via La sfida Mi hai già Immerso Ma con me Non ho fatto La missione Ma con me Ah Si lo c'è Mi prendo Oh Le palle Fra Le palle Vengo Vengo Ma con me Mi hai già 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 un accampamento di pirata maggiore non lo abbiamo fatto ma devo sapere che c'erano ma ci sono due ma io credo ci sono le teste ti ricordi delle teste della 35 voglio non mi ricordo quattro non ho mai visto ah grazie Luca ci vedo quella mia danneggiata eh eh danneggiata un po vedete a campanita pirata c'è un altro po ah che bello c'è un altro po e poi va ti posso provare con un altro muovi muovi di pasta qua qua non hai lutto dove una volta una volta una volta una volta una volta da mamma donna però torre simbolo una volta una volta una volta una volta una volta non ho messo correndo da te perco stanno lì nuoviti guarda sì ci stanno addosso alcuni ok 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 stanno stanno andando sopra la donna gioca ecco stanno da me no lì non ci sono no c'è muoviti guarda sono andato pure mi toglie il segnalino la vita da me mi sono dato il soggetto no sono di qua ci fanno che la cosa è vero e ragione scappo scappo di aggrappare un albero è vero ma questo albero forse forse non lascerò mai questa presa ma io così se questa volta sta finché era introvabile ciao ciao ok direi no c'è in città ci stavano tutti a fianco e c'è una giampa e per il risultato pure c'è un gioco no piccolo è attaccato non anche se ti spaccheranno perché li vedono e tu mi vedi che sono la voglio un albero però che cavolo mi mantiene niente niente ecco qua mi mantiene quindi ora non credo perché ho lasciato la messa prima io a benissimo così va benissimo nessuno guarderà mai qui e cavolo però un pochino non mi chiuso no 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 ok mi devo tenere così perché lascia la sola ragazzi questo è un video e lascia la sola tu vedi se c'è i nemici come non detto è scissato la modifica è scusate l'administrazione aspettato è solo a me sono mai più 40 di vita sulle foglie dalle quali io lo farò filato sono morto già qui da me e sono morto guarda io quanto mi do ok 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 non lasciate scendere ma c'è certo e chag che sono oggi che due punti l'opposetto bello cento volta ultimo di ora mi lascia me lo snide perfetto e il calcio scelgine di portaria tutto però mi scelgo ci voleva fa che indire vendi e prende ciao come non c'è la gente so che mi fai dopo questo la faccia la vogliamo a me mi vede una guardia ma non sono italia non c'è scelta li ho fatto 99 di scelta oddio c'è il girato non è stato è un ucciso con ora lo cazzo è vero ma quanta gente c'è la la via sto cercando che vogliono vogliamo comunque buscata qualcuno già facciamo pure voglio però non ha lasciato la mitraglietta non ci vedete non c'è scelta presto anche avendo questo non c'è scelta 0 ci sono da te seguilo ragionante così ok sta qui sopra questo ok serato 1 uccise tutte e due cavolo eh mi ha messo le trappole sto tizio mi finisce ok ci sta cavolo luca ci sta la carta ci sta la carta luca c'è la carta eh però sì c'è la carta c'è pure il busso prendila cerca di prendere vai giù attenta che dove sta la carta però c'è pure vai ci facci no vabbè vai giù vai giù non fa niente di quello allora attento a questo qui ma c'è la gente c'è scendi eh lo so fran sto scendendo e c'è questo che mi sta qua allora c'è tu vorresti busciare a quell'altro no ok lascia prendermi la carta ci riesco ci riesci ci riesci non lo prendi quello ti sta salendo da grande 105 105 e poi c'è ancora ragione vabbè non è finita dentro che quella scuola stica lo sniper ecco ti ho ragione vabbè c'è l'altro 3 te la rompe non c'è andare non c'è andare non c'è andare perché la riprende perché la riprende non c'è ferma attento c'è poi c'è più uno sniper uno sta facendo pure la skybase prendi sto coso ok prendi il messo fiore non vogliamo non c'è ferma rimani così bocca assorda bocca assorda sì c'è renato tu dimmi come mi ha fatta ad uccidere no lo ceva come si chiama l'avvento si per lanciare a te la pinta eh guarda un decilo solo con il lanciarazzo ci sono non c'è niente non c'è niente no non c'è niente non c'è niente sì c'è niente si si la vento l'u poi c'è niente sce lo tre paura bella bomberman per te a me l'aggiaggio io c'è niente il lato Non era scorsi No ragazzi Vi si è piaciuto Ciao ragazzi